Il prossimo weekend l'Irpinia, precisamente Solofra, ospiterà al Palasport di Via Santa Lucia un'importante riunione di pogilato, il trofeo delle conce. Organizzatore dell'evento Agostino Cardamone, pilastro della pogilistica Cardamone. Una manifestazione importante che sarà sicuramente la prima di una lunga serie che faremo qui in Irpinia, coinvolgendo tutte le associazioni che ci sono. Per me organizzare questa manifestazione vuol dire far combattere i miei ragazzi, tutti questi ragazzi Irpini e comunque abbiamo Carlo Siano che dovrà partecipare al Guando d'Oro che è un evento molto importante e questo match serve come preparazione e al meglio penso che farà un grande match. Quanta soddisfazione c'è nel vedere comunque un tuo atleta varcare la soglia della nazionale Elite? Per me è motivo di orgoglio che questi ragazzi, comunque vedo che loro si impegnano e il loro impegno così viene ricompensato con questo premio che vanno in nazionale. Uno dei protagonisti dell'evento di domenica sarà Carlo Siano, giovanissimo allievo del campione montorese che vanta in due anni 18 match 20 e 3 persi da poco membro della nazionale Elite e sicura promessa del pugilato. Irpino sfiderà per l'occasione Francesco Felacco della pogilistica di Giuliano. Ora mi sento molto preparato, mi sto allenando tutti i giorni e sarà un... l'avversario in realtà non lo conosco però credo che sarà un bel match tutto da vedere, ci sto mettendo tutto l'impegno comunque. All'atleta di sicuro non mancano grinta e coraggio, due componenti fondamentali per diventare un campione. Voglio tanto, voglio vincere quest'anno il guanto d'oro, poi vorrei andare agli assoluti e vincere lì e poi chissà magari più andare alle Olimpiadi.